A nove giorni dalle elezioni la lista Uniti per i polegi, con lei come candidato presidente, si presenta tutta la sua squadra. Sì, è un giorno importante, è la presentazione più che di una lista di un progetto, un progetto fatto insieme e che abbiamo la volontà di allargare a tutti quanti gli amministratori, per cui siamo anche contenti che ci sia una buona presenza oggi. Quali sono i punti chiave del programma? Sicuramente al punto numero uno possiamo mettere la parola a cambiamento perché riteniamo che la nostra voce di amministratori sia fondamentale per far capire che questo territorio ha bisogno di una svolta. Grazie. Grazie a voi.